Negramaro, amore che torni, un bel ritorno, tra l'altro dopo un momento buio, un momento di crisi Sì, un momento di crisi, a volte succede anche nelle migliori famiglie è successo tante volte che ci siamo trovati di fronte a delle crisi, ma sempre piccolissime voglio dire, crisi può essere anche non capirsi un giorno tutti e sei questo giorno è diventato un po' più lungo, un anno fa, siamo stati due mesi, un po' più o meno circa due mesi lontani da noi, da quello che è il gruppo, da quelli che erano i progetti futuri quindi ci siamo un po' allontanati dal nucleo, io sono andato a vivere a New York e lì è stato un momento per riflettere se fossi rimasto avremmo risolto in un minuto, quindi non ci andava di risolvere subito perché era un momento importante di crescita di una nuova generazione in qualche modo che cosa è successo? Ve lo raccontiamo, vi abbiamo raccontato di questa crisi di cosa che non farebbe nessuno, la nasconderebbe, invece l'abbiamo raccontata perché quando da una crisi si arriva ad una luce simile a questo disco che è pieno di speranza, di luce, di una luce raggiante perché è così che ci ha coinvolti questo disco ed è in pochissimo tempo avuto un'energia nuova che ci ha veramente permesso di creare questo nuovo album dal punto di vista musicale ho trovato una certa consapevolezza dovuto al fatto che forse vi siete spogliati da determinati suoni io ho trovato una certa attenzione a quelle che sono le percussioni per esempio e anche all'elettronica ma sì, nasce tutto un po' da un'esigenza nostra innanzitutto di rinnovarci anche in quello proprio dopo tanti anni, anche un po' tutti i nostri dischi se li si ascoltano hanno sempre avuto un suono diverso un suono che si è evoluto negli anni e come non mai questa volta c'è stata un po' una necessità proprio per magia diciamo che è anche partita proprio da ognuno di noi e quindi anche lì ci ha visto concordi anche proprio sulla direzione che il disco avrebbe avuto proprio come suono finale e quindi questa necessità di spogliarsi innanzitutto in un certo senso del proprio ruolo di quello che ognuno ricopre dalla necessità di sentirsi e vedersi così come è stato per i testi o per tutto quello che si cerca di fare nella psicanalisi che proprio accompagna il lavoro di un album quindi la necessità di vedersi anche dagli occhi degli altri da chi avevamo a fianco e quindi di togliere tutto quello che potesse in qualche maniera distogliere da quello che un altro vorrebbe sentirci vorrebbe sentire arrivare da parte nostra Io anche dal punto di vista dei testi ho trovato per esempio amore in tutte le sue forme e anche odio in tutte le sue forme o quelle che sono diciamo tutte le forme di questo tipo Beh l'odio è anche una forma di amore un periodo oscuro cioè è the dark side of the moon in qualche modo nel senso questo è il lato oscuro della luna per noi lo volevamo raccontare ma è sempre una luna luminosa e raggiante per cui diciamo che ci ritroviamo in quelli che sono i nostri classici che abbiamo tanto avuto in riferimento nel senso proprio come te, come me abbiamo chiunque avuto fra le mura quegli ascolti per cui è facile riferirsi anche a una sensazione simile se hai trovato l'odio fatti una domanda se hai trovato l'amore fattene un'altra parla nel senso che le canzoni diventano tue e sono felice di quando uno come te mi dice quello che ha sentito e se hai sentito odio io te lo lascio sentire grazie mille, salutiamo All Music Italia ciao All Music, vi seguiamo tanto ciao e ci mancate anche un po' ci mancate, ciao grazie ragazzi ciao grazie